Premio Donna Città di Roseto, quarta edizione, Sindaco Pavone, una manifestazione che è entrata già nel cuore dei rosetani ma non solo. Sì, è vero, è una manifestazione che ha avuto un altro gradimento già nel passato e questa è la quarta edizione. È una manifestazione in cui la città premia onora le donne che si siano distinte, che si sono distinte nei vari settori, quella dell'imprenditoria, quelli culturali, quelli sportivi e che abbina poi anche una serata di gala in cui si raccolgono dei fondi che vengono donate poi alle associazioni di volontariato che operano nel campo sociale nella città di Roseto degli Abruzzi. Ecco, è un evento per noi molto importante perché appunto permette sia nel giorno della festa della donna di evidenziare delle eccellenze e anche quello poi di compartecipare a cercare di alleviare le sofferenze di chi ha più bisogno. Ci saranno delle novità rispetto all'anno scorso in questa quarta edizione? Sì, ci sono delle novità e abbiamo cercato di abbinare anche una serata con della musica, abbiamo avuto degli imprenditori che ci hanno donato delle cose che poi durante la serata verranno offerte, ci sono dei commercianti che hanno offerto dei beni per fare una lotteria. Ecco, è una bella serata, invito tutti presso l'hotel Bella Vista di Roseto alle ore 20.30 domenica 8 marzo, invito a partecipare perché, ripeto, si dà anche un sostegno e questo è importante soprattutto a delle organizzazioni che operano nella città per il sociale.